Il bando per la gestione dell'aeroporto Ridolfi di Forlis cadeva lunedì alle 13 e fino all'ultima leggiava il timore che potesse andare a vuoto. Ma dalla sede dell'ENAC, l'ente nazionale dell'aviazione civile, giunge la notizia che un'offerta c'è. Rimane accesa quindi la speranza di una riapertura dello scalo forlivese. Ancora non ci sono risposte ufficiali riguardo al gruppo che ha presentato la proposta. La busta verrà aperta pubblicamente mercoledì, ma si pensa già all'accordata di imprenditori locali, tra i quali appaiono i nomi di Ettore Sansavini del gruppo Villa Maria, CMC di Ravenna, Orogel e CNA Forlicesena, oltre ad altri imprenditori raggruppati sotto il coordinamento della società Orienta Partners di Forlì, che ha progettato il piano industriale oltre ad essere socia dell'iniziativa. Una volta aperta la busta, una commissione ENAC si metterà al lavoro per valutare che l'offerta dal lato economico e industriale sia in linea con le richieste del bando. Nonostante le riaperture sporadiche, come quella di lunedì per far atterrare il presidente Mattarella, l'aeroporto Ridolfi è chiuso dalla primavera del 2013 e il bando successivo, che aveva visto l'imprenditore americano protagonista di una possibile riapertura, è finito con il fallimento della società Air Romagna. Il testo del bando attuale attribuiva alla concessione trentennale il valore di 6.150.000 euro, IVA esclusa, per l'intera durata dell'affidamento. Quindi si spera che il nuovo proponente abbia tutte le carte in regola per poter portare avanti questo progetto e che i romagnoli possano finalmente vedere Ridolfi tornare a volare.